La società di Chiara Ferragni dovrà affrontare una sanzione di un milione di euro in relazione alla controversia riguardante il Pandoro Balocco, un caso che ha suscitato notevole dibattito nei mesi passati. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha imposto una multa di un milione di euro alla società di Chiara Ferragni una sanzione di 420 mila euro a Balocco. Secondo quanto dichiarato nell'annuncio ufficiale pubblicato sul sito dell'autorità, le suddette società hanno comunicato ai consumatori che l'acquisto del Pandoro griffato Ferragni avrebbe contribuito con una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà la donazione di 50 mila euro era stata già effettuata dalla sola Balocco alcuni mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno ottenuto dalla campagna un introito superiore a un milione di euro.